Bene, facciamo così sempre. Io faccio uno, due, ora scrivi uno, due, tre, quattro, ancora una volta, uno, due, tre, adesso vai indietro, quattro, ancora una volta, uno, due, tre, indietro, e stai dritto, dai. Uno, due, tre, quattro, allarga bene qui, gambe mesciano, allora, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, e stai dritto. un due, tre, quattro Vedi, posso andare anche qui. Veniamo dall'altra parte. Stai facendo questo colpo o fai buono? Dai, uno, due, tre. Sì. 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 Sì, via. si si quando io faccio anche tutto me da hai, hai, hai ancora un altro adesso di distanza allora anche un poco provo a tocare un po' questione ok? ok 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 poi anche come adesso tutto sta lavorando direttamente non vedi io direttamente non 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 no no Grazie a tutti Grazie. 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 E' quando ti ritardi, quando ti bilanci, che non riesci più a tornare indietro. Per quello devi sempre essere attento. Sempre piegato, perché qua, da qua, tutto sta gioco. Io, dai, dai. Ah, io, io, io. Aspetta, ancora una volta. Anche io, anch'io. Se parto così, devi vincere le partite. Quello qua, sempre. Non dimentica di difesa, perché tu stai partendo subito. Che spiegherida Oh wow... Oh деревa... bene, uño dritto, mi faccia, dai, guarda, 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 guard Crepa, crepa, crepa. Si, idolo qua. Ah, si, da. Si, si, si. Adoro. Si, da? Si, da. Adoro giusto. Adoro. 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 RELAXED Bene, adesso un po' più difficile Dai facciamo in altra direzione e poi con un piccolo pass fuori Bene, l'attrazione e in più No, l'attrazione No, l'attrazione No, l'attrazione Inizio Inizio L'attrazione Visto? Ah si Ancora Buona Si Ok Ancora Ablassa un po' più la mano Oh Buona Dai Perché devi fare così tu? Si Dai Opa 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 Dai 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 le Dai Dai No Dai Dai Stai ma dovete parliare così direttamente senti? hai sentito il frutto? si si destra dai un piccolo qua poi possiamo fare anche va? si dai dai lavora te si ancora una volta qua passo? si lavora un po' l'obere forte? si non vai troppo un piccolo bravo si ah una volta ora ora meglio così lavora un po' l'obere posto 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 tocca te hop senti bravo si si lavora un po' l'obere eee tu ti sai qui ma è questo Sì, sì, sì. se si vede se si vede se si vede se si vede se vede se vede se vede se vede se vede ma chi li ho provo a sentire di santa anche te me vede se 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 vedi hai scelta ti devi essere su vente dai i i camera i i i i i i i i si 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 i 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 2,5 2,5 due tipi di via firmarsi qua invece sendato copri qua Ampura Oh, questo va Rimani 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 Ok Ok Vieni Rimani Dio Vieni Vieni Non entra in profondità Vieni 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 Ficchio Buono Vieni Un altro Olное Prima Rimani C'è Sì. Adesso gioco, allongobrace. Allongobrace, allongobrace. Adesso metti in guardia. Metti in buona guardia. Allongobrace. Deve farmi toccarmi e io devo difendermi. Basta. Tu devi fare con che altra velocità? Deve toccarti. Deve toccarti. Allunga, allunga. No, no, allunga, allunga. Con quella. Con questa. Allunga questa braccia. Con quella devi toccarmi. Adesso io. Difenditi. Difenditi. Sì. Difenditi. Ok, ok, ok. Ho capito. Pa. Guarda. Non. Basta. Cosa. Non. Seve. Non. Pagare le due. No. Non. 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 Sì. bravo, prima volta mi sento deboli allunga, allunga poi lo potevano indietro hai capito? no, con questa con questa, dai ancora no allunga, allunga, allunga allunga, allunga, allunga allunga, allunga, allunga no, con questa, dai anche con questa non sei rimasto no, tutto, tutto io io stai, stai, stai stai io stai 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 allunga, allunga allunga verifichiamo se c'è registrazione va avanti con questa con questa ti tocca con questa si allunga, allunga allunga, allunga allunga, allunga no, allunga anche tu il pugno così sarà più bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo aspetta vedi quando sono là più stretti e non posso saltare io dai, tanto, tanto si, si, poi leppo così, questa velocità sarebbe per arrivare al test alla test alla test e plus il secreto sai quale? MMA e boxeo sono abituati con questa distanza tu ci sei abituato a lavorare di qua loro non vedranno mai tuota sei che più sicuro stai in guardia tra le gambe posto? si se vieni 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 troate un po' di che sei hai vieni 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 apposta bene guarda guarda io vado da te con me incontro più stretto si 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 Oggi è il vejo. Pia del rambo. Molte. Pio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, provo a prendere il mio. No, con low kick. Ah, ok. Veloce. I va. Sì. 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 Devi toccare. Bene, basta prendere. Io. Hai capito? Sì. Non avicinate tanto. Sì. 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 Io. Sì. qui vediamo ooo bici si chiude E' troppo vicino, troppo gambe strette Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Scusa! Io! E' un passo! E' un passo! Tu e anch'io! Anche io! Quando lo mettevi giù? Doveva essere più quello! è un passo! Qui ci sono? Mi sono un passo! Vieni! E ti bidi per fare! E' un passo! E io prendo! Come con... E io? E li vedi finisci! Grazie a tutti.